Tutti i Ryan Stefanelli in questi video che abbiamo fatto non saranno stati maltrattati ma saranno stati molestati a prescrizione dai Non metta a fuoco la traccia da culo Iscrivetevi al canale e vostra mamma è buona Buongiorno a tutti, questo video è veramente vista a uno youtuber Fallito però Se smetti di spogliare il mio padre forse mi siamo Vista al famosissimo youtuber fallito Ryan Stefanelli La prima domanda è Quando hai iniziato a fare i video su youtube? 3 ottobre Di che anno? Genio, pirla 2017 2000? 2017, Dio Bono tua sorella Count hai perso, bell'uomo Eh, parecchio Da 1 a 12? 37 865 No, a me sembra 2 5? No, 3 8? Cos'è sto rumore? Dillo, muoviti Cosa devo dire? Il numero? 2, 3? 3 Perfetto Tanto 5 anni Tanto 5 anni Oh yeah Che cosa parli sul tuo canale? Porto donne Ma chi è? Ma è Robby questa? Si Perché non mi metta a fuoco Robby? Eh, negozi C'era Gabby 8 iscritti Porti Among Us, Minecraft Porti solo Among Us e Minecraft? No Ma questo non sei te? Si che sono io Ma questa pubblicità Sbilenca Eccolo Questo canale è stato perso Da tempi indecifrabili Che bello, ciao Perché non mi metta a fuoco? Ragazzi, iscrivetevi anche se il canale non si può più usare Ma, eh, no Si deve iscrivervi al tuo che funziona Tutti tu Bene 12 video Cosa dici questi 12 video? C'è Among Us, Fannafe, Le Cianilla, un vlog Un vlog Ok, questa domanda è conclusa Gli iscritti miei chiedono se porterei Dragon Ball o Legend 6 O Dokkan Battle sul tuo canale Cosa è Dokkan Battle? È sempre Dragon Ball Eh, portali Però è più bello Dokkan Portali, però mi devi dare dal tuo account Tu li devi portare sul tuo account Ma ti permetti? Ok Come ti permetti? Stacca, 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 ci stanno tracciando Porterei Rocket League? Staci rubo la Nintendo o si? No, puoi farli anche col mio Nintendo i video Ma non me lo fai usare Appunto Cioè, non posso neanche usare la tua Nintendo Non me la fai usare perché non potrei neanche andare in bagno Se non lo chiedo a te Quello lì Good boy Allora, porterai Dragon Ball Xenoverse 2 sul tuo canale Sì Che faccia, Dokkan? Bravo Prossima domanda Devo staccare o ci tracciano? Mamma, minga No, c'è Copyright Toglio l'audio Con quell'aria porno, mamma No, stai zitto Con un fiore tra le dita Bello, è sexy, sexy Mamma mia, ti lecco le dita No, zitto Zitto, è sexy Sexy boys È tutto bugato No, copyright, copyright Stacca, stacca Mangi solo la mia bambina Ma, di volte 10 volte che faccia come un Natale Riprendere il tuo canale Ma è un po' troppo curvo Ok, prossima domanda Domanda, 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 domanda Perché hai quel cappello in testa? Per vedere il nostile Il tuo stile? Ai, si è smontato Ok, pausa tecnica Ti vedo Ha fatto, ha fatto, è a posto Possiamo continuare L'hai messo a storto L'hai messo a storto L'hai messo a storto Portofino Manda per una principessa nata guerriera E' un'altra Si riscogna una diabla Dove? Nel cesso Io vengo dalla strada Nata dei Buttata tra i lupi, uscita a capobranco Tu mi hai successo Io sopra il cesso Ok, Ryan, l'ultima domanda Per una principessa nata guerriera Se avrai una fidanzata Farai video con lei? No Perché? Chi lo sa? Chi lo sa? Sono singolo ancora Ok, scrivete nei commenti Chi si vuole fare sto bimbo Mi farò te Sto scherzando Sei brutto Cosa fai tiktok Mentre io faccio youtube? Io ho 1600 follower Qui mi dice che ne... Ma... Ma... C'è il copyright Togli sta roba I'm the globe 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 Vi lancio la fila Aspetto che mi fa rossire So come usare E in che buco metterlo Con bastonso sfondare di tutto Anche il metallo Stacca, stacca Ci stanno tracciando Bimba Posso finire di dire una cosa? Se tutti i pervertiti si illuminassero Io sarei il primo Non ho capito Non posso registrare Robiti Aspetta Non metta a fuoco Ma che cazzo? Tutti i pervertiti? Stacca, stacca Ci stanno tracciando No! 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 Rispondi alla domanda Boh! Sì o no? Viva nell'oscurità Viva nell'oscurità Non cambiare discorso Rispondi alla domanda Ti ho domandato Aspetta Diminiamola Ecco Sto ancora registrando Stacco, stacco Lavoro è una finanzata Quando Stai zitto Non dire cosa c'è Is alla seconda Per due is alla seconda Farà quattro alla seconda Ma Ma che cosa? Ho imparato a fare lo zoom Nei video Qui Tommiamo sull'algebra L'algebra Chi è l'algebra? Quanto sei down Non sai che Quando l'hai detto Ti ho aumentato La grandezza Della faccia E si vede solo La tua faccia Di quel Che schifo Per fortuna Non si è visto niente No Adesso guarda Ci lavorò ancora? No Sì Adesso guardami di strano Aspetta che sto ingrandendo la faccia Adesso Girati Bellissimo questo video Andata tra i lupi Cresciuta Capobranco Come si scrive? Due per due? Ryan Posso farti una domanda? Devo dire il paradunuto Ryan Di che colore è il verde? Forse non hai capito Di che colore è il verde? Visibile confusione Marrone? 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 Cresciuta tra i lupi Nata Capobranco Le donne Hanno sempre di più Di qualcosa di bello Per concludere il video Maschino più robe E giocano di più Ma che cazzo? Ti divertono di più E hanno più robe Giocano di più Ma io conosco Una ragazza che gioca a cod Sì ma io conosco Una ragazza che gioca a cod Quindi Conosco una ragazza Che si chiama Omarillo No era Martina No Camilla Ma dai Cosa fai? Ok con questo Chiudiamo il video Ciao Drogati Tua mamma Ciao Ciao Grazie a tutti.